Pace del Signore, Dio vi benedica. Grazie a Dio siamo ancora una volta insieme per poter lodare e benedire il nome del Signore e vogliamo anche edificare la nostra fede considerando le testimonianze dell'opera che Dio compì in Cina durante il ministerio del fratello Jonathan Goffort. Stiamo leggendo un libro da lui scritto per lo Spirito mio, edito da Di Media, e siamo nel capitolo 10 dove egli racconta di alcune esperienze vissute per mezzo dell'intervento dello Spirito Santo nelle riunioni tenute ai primi del Novecento. Abbiamo visto la volta scorsa come un impedimento erano le preghiere formali che venivano elevate da parte di un uomo il cui cuore era lontano da Dio, uomo che però alla fine si arrese al convincimento dello Spirito. Qualcosa di simile, scrive Goffort, avvenne anche a Pechino e quindi salteremo questa parte perché la testimonianza è molto simile. E dopo Pechino, scrive Goffort, egli si recò a Pengcheng, che era un famoso centro di produzione di ceramica a sud-ovest di Cili. Pengcheng aveva una fama che aveva raggiunto un po' tutta quanta la Cina ed era dovuta non soltanto ai prodotti dei suoi forni, ma anche al carattere notorialmente malvagio con cui le persone si comportavano in quella città. Era la postazione più a nord del territorio di cui era responsabile Goffort da un punto di vista dell'attività missionaria e lui visitò la città per la prima volta nel 1890, parecchi anni prima che l'opera lì cominciasse a prosperare. Nel 1915, scrive Goffort, decisi di tenere una settimana di riunioni speciali al fine di vedere un risveglio tra i cristiani del luogo. Sapendo le mie intenzioni, alcuni importanti uomini di affari legati alla Camera di Commercio cinese decisero che avremmo dovuto usare l'edificio del Ministero del Commercio, un vecchio tempio in disuso. Fu eretta una grande tenda, a loro spese, proprio nel cortile di quella struttura. Il tempio, sfortunatamente come immaginavo, era situato a una certa distanza dalla città e quando venni a sapere delle disposizioni che erano state date, temevo che sarebbe stato impossibile far arrivare la gente così lontano. Eppure, scrive Goffort, fin dal primo culto, il tendone era pieno zeppo di persone. I cristiani, e non solo, erano molto ricettivi. Furono confonti, confessarono i loro peccati, ammisero le loro colpe gli uni e gli altri e rinunciarono a vendicare i torti subiti. Ciò ebbe un effetto impressionante su quanti non erano salvati. Tantissimi, tra uomini e donne, confessarono di credere in Gesù Cristo per la prima volta. Molti erano noti intellettuali e tanti altri importanti proprietari di forni. Furono registrati come neofiti circa 50 nomi, ma molti altri furono rifiutati per non essere ancora abbastanza preparati. L'evangelista Ho, che era stato con me fin dall'apertura delle riunioni a Pengcheng, mi disse che mentre stava camminando per le strade di sera, gli sembrò che tutti stessero parlando degli strani avvenimenti nel cortile del tempio, e pensò che l'intera città fosse sul punto di convertirsi a Dio. Da Pengcheng, scrive Gofort, andai direttamente a uno dei più grandi centri della nostra missione, dove ero stato invitato per condurre dieci giorni di riunioni. Era un periodo dell'anno che non prevedeva nessun incontro speciale e mi aspettavo che, sicuramente, tutti i credenti delle stazioni evangelistiche vicine avrebbero preso parte alle riunioni. Fui molto deluso, invece, quando venni a sapere che non era stata presa alcuna iniziativa per farli partecipare. Infatti, non ci furono più di dieci cristiani per il culto che venivano da fuori. Alla riunione di preghiera missionaria, a cui partecipavo quotidianamente, non era quasi mai menzionato il servizio di culto che stavo tenendo lì. Tutti i missionari sembravano essere stranamente indifferenti alla necessità di una maggiore e più intensa comunione con Dio nella vita della loro chiesa. Anche il missionario da cui avevo ricevuto l'invito per fare quelle riunioni dimostrava chiaramente di non prendere sul serio questa iniziativa spirituale. Sembrava essere più interessato al benessere dei suoi cani e dei suoi piccioni, più che a Dio e che all'opera dello Spirito Santo. Ad un culto, mentre molte persone con punte stavano pregando e confessando le proprie colpe, mi capitò di notare che questo missionario osservava tutto in modo sorpreso e quasi divertito. Ebbi un tuffo nel cuore, perché sapevo che sicuramente ci sarebbero state conseguenze negative. I cinesi sono veloci ad accorgersi di cose del genere e naturalmente a provare un risentimento profondo. Conclusero tra loro che le riunioni erano state organizzate soprattutto per loro beneficio e che gli stranieri ritenevano di non avere peccati da confessare. Quella sera due evangelisti vennero da me. Entrambi erano splendidi uomini della regione di Chanteng. Erano passati per il potente movimento di Chansung. Non possiamo restare, dissero oltre. Torneremo a casa. È inutile cercare di salvare anime qua. C'è quel missionario oggi che, mentre la gente stava cominciando ad aprire il cuore, ci fissava come se pensasse che fosse tutto uno scherzo. Gli feci notare che, visto che il missionario sembrava non aver preso coscienza del bisogno di benedizione di cui aveva estremo bisogno, era ancora più urgente che essi, che avevano visto con i propri occhi ciò che lo Spirito di Dio era capace di fare, rimanessero al loro posto. Mi promissero che sarebbero rimasti. Le riunioni giunsero al termine, e anche se non pochi erano stati benedetti, chiaramente non si era arrivati a un movimento spirituale profondo. Qualche settimana dopo, seppi che qualcuno aveva messo in giro certe chiacchiere del tipo, il fratello Goffort ha perso potenza, ha predicato per dieci giorni con pochissimi risultati. In quel modo i missionari di quella possiazione pensarono di poter giustificare quanto era avvenuto, o meglio, quanto non era avvenuto. E cari, vogliamo fermarci un attimino per riflettere su questo. Il risveglio non è in un uomo, il risveglio non è in un servo di Dio. Il risveglio è il frutto del desiderio delle comunità e delle persone di poter vedere la gloria di Dio nel loro mezzo. Non aspettiamoci risultati da qualcuno se non dal Signore. E ricordiamoci che Dio opera quando noi lo cerchiamo con tutto il cuore. È scritto ed è una verità assoluta. Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Vivi un momento di aridità spirituale? Nella tua comunità non c'è quel risveglio che desidereresti vedere? La domanda è, stai cercando il Signore con tutto il tuo cuore? Possa Dio benedirci, accompagnarci ed essere con noi ancora oggi. Pace del Signore, Dio ci aiuti ad essere a Lui fedeli.